Per me lavorare con la luce è una cosa terapeutica, è una cosa che mi fa bene dentro, agli occhi, è una cosa che vorrei condividere con le persone. La luce è troppo sempre scontata, turn of the lights, basta, invece è molto di più. È il primo festival della luce romano, uno dei pochi in Italia, quindi è una novità assoluta, è una bella novità fondamentalmente perché si svolge in tutto il pigneto fino a Torpignattara e il contatto con la gente per noi è molto importante. Un paio di anni fa ci siamo messi insieme per aprire un dibattito più che altro sull'illuminazione urbana, per farlo in un altro modo, per farlo a livello più sociale, partecipato e inserire argomenti che normalmente non vengono toccati quando si fa progettazione urbana. Creare degli ambienti, delle situazioni particolari in contesti che sono quotidiani, come per esempio questo passaggio qua, il Ponticello, non c'è niente di esteticamente bello, diciamo, architettonico. Con la luce in questi luoghi si può far vivere questi luoghi in un altro modo. Tutti questi operai lavorano con un watt, un watt non è nulla, è incredibile. Per cui immaginiamoci poi con la tecnologia cosa possiamo fare in una città.